si grazie tesoro oppo vai con loro a casa segui lui ma perché hai preso il casco da sciare ce l'ho anch'io da sciare era di un'altra marca 5, 4, 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, via! c'era uno qua ragà guarda, non vedo un cazzo guarda, non vedo un video 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 non c'è più qua guarda dentro che arriva da dietro ti incula oi come se ha messo non c'è più qua non c'è più qua non c'è più qua preso merda un tanto così non c'è più qua vai nel garage qui guarda se c'è qualcuno qua dentro cazzo preso esce preso esce there we go vai Grazie. passiamo da sopra e via il assetto un po' in trade e via il nostro corso gratuito vai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.